Ed eccoci qua, un altro pezzo di storia, uno splendido Fiat 643 che lotta contro il tempo, indisperata lotta contro il tempo, già è sparito il filtro dell'aria, la ruggine comincia a diventare seria, le gomme sono ancora buone quelle dietro, buone si fa per dire, ormai saranno cotte, anche se non hanno lavorato, hanno fatto il loro tempo e quante altre gomme, quanto altro ancora, quante storie da raccontare, da immortalare nel mio canale, da condividere con tutti, la storia del trasporto italiano è qua, che giace, non si sa per quanto tempo ancora, ma voglio che ne rimanga un ricordo, che roba ragazzi, un 643, vissuto, conservato, e qui accanto un rullo compressore, un vecchio rullo compressore, vecchissimo, buttato qua, non so che valore collezionistico possa avere, che età possa avere, ma si vede che è molto 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 vecchio, molto adattato, ed è qua che giace, anche lui, ragazzi, con questo, vi saluto, e vi do appuntamento alla prossima.